Buona giornata a tutti e chi vi parla è Claudio Semionini insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti. Allora, ricordi che sono Claudio Semionini, mio indirizzo è Piazzale Parmesano Tomarghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti e Casale del Postale 53 Marostica, Vicenza. Io ho un sacco di cose qui da parlare oggi, parte la segna stampa, ma Francesco, come ci organizziamo? Facciamo un po' di commento di notizie stampa o facciamo un po' di commento di quell'imbecille che poi tanto ormai le persone vanno in internet? E' un altro fiato, penso che alcune persone possono capire chi era finalmente il grande vecchio delle brigate rosse, chi ha ammazzato 50 persone, perché ormai sui siti che vengono frequentati da persone di sinistra vengono dipinti come un bieco fascista, sui siti dove vengono frequentati persone di destra vengono dipinti come un lercio brigatista, dall'altra parte c'è praticamente di tutti i colori, di tutto un po'. Non mi meraviglio perché appartiene anche all'esperienza di molti soci dell'Istituto di essere sempre fuori dalle righe, perciò essere catalogati come fa comodo, come avversari, come nemici totali. E' talmente, è stato organizzato naturalmente tutta la diffamazione in maniera sistematica in internet, fin dall'inizio ne conosciamo tutta una serie di momenti di sviluppo della diffamazione che c'è stata e naturalmente poi ha fatto comodo a molte persone, cioè molte persone fra commercianti di vario genere, fra persone che avevano i loro interessi, gli altri che avevano messi in crisi le loro convinzioni e quello che loro spacciavano, in fondo si sono aggregati, no? Sì, sì, ma anche perché purtroppo noi abbiamo sempre la zavorra da inquisitore di cristiani dei cattolici che li vanno dietro e non trovano qualsiasi pretesto, qualsiasi aggancio, soprattutto quello che è noto è la mancanza di intelligenza e forse una volontà di stupidità di certe persone nell'accettare certe tematiche, soprattutto una cosa che è importante è saper stabilire il distingo tra quello che c'è amico e quello che c'è nemico, e qui non stiamo parlando di simpatie personali ma di quello che ha a che fare con la società, con la cultura, con la vita e con le nostre persone. Nel campo religioso non si può essere una via di mezzo, cioè o si è per la vita o si è per la morte, o si è per la libertà o si è per la dittatura. Non esistono campi grigi, campi in cui si può scendere a compromesso, in cui si può dire ma faccio questo, faccio quell'altro. Le scelte sono di campo, sono fondamentali. Logicamente chi fa una scelta per mancanza di cotardia, mancanza di coraggio, mancanza di forza o per stupidità si troverà giustamente sia attaccato da una parte che dall'altra. Ma quando noi parliamo di una dimensione della vita, non stiamo parlando di una squadra di calcio, Claudio tira una squadra e io tengo a un'altra. Questo qua fa parte del tifo e delle scelte personali, ma stiamo parlando di dinamiche più importanti e di conseguenza di fronte anche a un'affermazione che potrebbe essere accettata su una squadra di calcio, quando si ha a che fare con due visioni, quella pagana e quella cristiana o quella monoteista, non ci possono essere compromessi. Infatti vedo che anche Francesco si è portato il libro di un terribile amore per la guerra. Io sono molto a casa stamattina alle sette e mezza e l'ho messo un solo libro in macchina, questo, e il caso non esiste. La fatalità, appunto, non è mai esistito, non abbiamo mai concepito il caso, caso, non so, almeno nei termini comuni del significato. E niente, io sono invece andato da Feltrinelli qui a Padova, ho avuto l'occasione, ho fatto un po' di grazia, fra le altre cose, anche io il terribile amore per la guerra, naturalmente ho preso anche i libri di Galasso, ho preso anche una barca di libri, anche difficili da trovare, sulla psicologia del mito, altre cose, che altrimenti se non andavo là non li trovavo, insomma. E visto che la Defi aveva regalato queste belle borse di tela, me ne sono portate a casa parecchie, diciamo. E niente, quello che comunque vorrei, citare proprio il libro Un terribile amore per la guerra di Hill, ma è perché proprio parla di questi fattori, cioè parla anche delle, quelle che sono, le guerre diciamo così sul territorio, le guerre in internet, hanno praticamente, obbediscono sempre ai stessi caratteri della guerra emozionale, in pratica, quando qualcuno arriva e ti disturba le certezze, ti disturba le tue finzioni, disturba le truffe, i piccoli inganni che metti in atto, questo ti sconvolge e sconvolge la vita, non sei più in grado di misurarti. Chiaramente una società civile cosa vorrebbe? Tu hai un'idea, l'altra ne un'altra. Confrontate le due idee, guardate pragmaticamente quali delle due idee può funzionare o non può funzionare, chiaramente uno vince e l'altro perde. Questa è una società civile. In una società invece che è caratterizzata da Gentaglia come Ratzinger, come Scola, con i ruini, con tutto questo marciume, diciamo così. Beh, su Ratzinger sono d'accordo su una sua affermazione, che non tutte le regioni sono uguali. Ah sì? Cioè, mi spiace che l'audio, dovete dire, quando Ratzinger dice che io ci teniamo che non tutte le regioni sono uguali. Sì, ci teniamo anche noi, in effetti. No, c'è una domanda a questa Gentaglia che a un certo punto vive truffando, cioè vive di truffe, tant'è che Ratzinger lo dice, egli stesso lo dice, a te fate come se Dio non esistesse, cioè che il suo Dio sia una truffa, lo dice lui stesso, cioè non c'è problema che sia un truffatore, lo dice lui stesso. Ma quando trovi tutti questi personaggi che si trovano, tutta la struttura sociale, messa in discussione, perché si presentano delle idee? Perché voi dovreste guardarci radioascoltatori, cioè io e Francesco siamo due persone, cioè nel senso che abbiamo una faccia, due braccia e due gambe, ma non abbiamo una struttura economica ai spalle, non abbiamo centinaia di missionari che vanno in giro per il mondo, a massimo abbiamo il nostro amico Franco che ci fa un mazzo tanto per far girare le idee, ma noi non abbiamo supporter, non abbiamo i miliardi delle sovvenzioni, cioè siamo solo due persone che grazie a Radio Gama 5 e grazie alla passione di Franco Cararo abbiamo questo spazio, per cui abbiamo un misero spazio radiofonico di due ore e mezzo e contro le centinaia di tv, organizzazioni cattoliche, abbiamo questa miserabia, diciamo così, per difondare il nostro pensiero perché non facciamo altro. Ebbene, questo risconvolge, provate un po' a rifletterci, risconvolge tanto di aver organizzato vere e proprie squadre d'assalto sia in internet sia sul territorio, perché basta che noi facciamo le chieste in una sala per una conferenza che arriva subito le squadre d'assalto del vescovo, cioè si troveranno in una situazione che veramente ha dell'incredibile, infatti è talmente incredibile che è difficile crederci, però Francesco io adesso li leggo cosa mi ha inviato come me questo personaggio. A certo punto c'è un personaggio in lista di discussione con il quale io ho anche avuto un certo dialogo, un personaggio che si dichiara vicca, proposto quel dialogo, siccome non ho molto materiale, proprio quel dialogo ve lo farò questa sera alle ore 19, così vi manifesto un po' di principi pagani sintetizzati, visto che purtroppo non ho potuto lavorare molto su altre cose. E questo personaggio a un certo punto, io mando un documento in cui dico che la vicca prende spunti da molti aspetti superstiziosi che c'è nella vita comune, nella vita pratica, no? E questo personaggio si sente risentito. A un certo punto, gli diciamo se io che altre persone, d'accordo, se tu dici che la vicca non è così, cioè tu dici che la vicca è altre cose, sono cose serie, c'è una struttura di pensiero, scrivecelo o no? Cioè scrivi in lista delle cose, cioè non è importante chissà quali cose tu scrivi, ma dacci almeno degli spunti, cioè manifesta le cose, cioè anziché dichiararle scriveci qualcosa, dacci delle indicazioni. A un certo punto, adesso vi dico cosa scrive questo personaggio. Cioè tenendo conto che la sua affermazione è assurda, che dice che la vicca è un fatto privato, in realtà è un'affermazione che è una, diciamo una stupidaggine, in quanto il primo, l'1 e 2 di ottobre del 2005 ci sarà a Biela il convegno a vicca e di conseguenza se questi amici che organizzano il convegno non dovrebbero neanche organizzare il convegno perché se, cioè diventa una cosa pubblica. Un vicca seria, avrebbe potuto benissimo rispondermi, sì, tu dici che queste cose sono superstiziose, però se a me queste cose funzionano, e tu non mi puoi dire che sono superstiziose, perché a me personalmente funzionano e davanti a una condizione del genere non è che puoi più di tanto contestare, perché se gli dici alla vecchietta, la vecchietta Rosario, diciamo è una stronzata parlare del Rosario, no? Recitare il Rosario, però se la vecchietta dice, oh figlio mio amico, ho 70 anni e stavo ben così, cosa te vuoi da me? E' chiaro che non gli puoi più dire niente, cioè non... C'è vicca e vicca, perché tanto per citare ad esempio una persona che è intervenuta anche in questa trasmissione, Laro Arangoni, che è un'amica, Laro Arangoni ha detto fa, ma qual è la più grande masia se non quella di dar da mangiare, di cucinare e di preparare il mangiare per la propria famiglia? Cioè, io penso che in fatto di vicca Laro Arangoni sia una persona significativa e lei ha affermato, in un convegno di vicca ha affermato questo, ben lontano dalla superstizione di certi vicca. Ci sono un sacco di donne che sono diventate streghe semplicemente cucinando minestroni. Sì, no, ma infatti lei l'ha affermato, c'è quella che è la più grande masia. Capisci che bisogna avere consapevolezza per fare una simile affermazione, cioè sapere che mescolando ingredienti, vivendo in un certo modo, vivendo con passione, con intensità, una persona si trasforma. Ma chiaramente ho quella consapevolezza che esiste qui, ma se non c'è la consapevolezza... Sì, ma vedi, perciò quella persona che dicono che le vicca è un fatto privato, si scontra con la realtà che personaggi che sono autorevoli per le cose della vicca, tipo Laro Arangoni, afferma una cosa ben precisa che noi sottoscuriamo pienamente. Infatti, non c'è... Vabbè, adesso vi leggo un po' questa e-mail, naturalmente lui prende tre pezzetti di una mia e-mail precedente e li aggiunge sotto. Attenzione, della mia e-mail precedente dice, io dicevo, tu non posti nulla di religioso della ricca perché questa lista ti fa schifo, a un certo punto gli ho chiesto questo. No, risponde, perché sono cose private e non voglio parlarne senza sapere a chi ne parlo. Questa, fate un po' voi la risposta. Dopodiché, prendo un'altra mia, l'affermazione che ci siano delle persone serie è un'affermazione vuota di contenuto e di dimostrazione, cioè tu in pratica tu mi dici che sono delle persone serie, però dimostramelo. E lui risponde, conta che non hai dimostrato nulla nemmeno tu. Sì, vabbè, è come il cattolico che ti dice, tu non mi dimostri che Dio non esiste, dunque Dio esiste. Cioè, è una roba veramente da fuori di testa. a che io concludo, e questa è la mia ultima citazione, poi un giorno Pier Maria mi racconti che cosa nascondi. Perché chiaramente a quel punto, dopo una serie di email, qualcosa mi puzzava, cioè non mi era chiaro cosa alla fin fine volesse questo personaggio. E lui mi risponde, Claudio, e qua alzate bene le orecchie, perché chi mi ascolta da questa radio da nove anni, mai qualcosetta dovrebbe conoscere. Vabbè, io sono anche il ruento, ho anche le mie passioni, avrò tutti i miei difetti, diciamo così, però insomma ormai mi conoscete da nove anni. Claudio, ora ti dico cosa pensano di te alcune persone che reputano serie e non necessariamente vicche, ma che comunque penso abbia un'opinione di te falsata da qualche loro pregiudizio. Riporto solamente senza alcun giudizio di merito, ne specificando cosa penso io. Alcuni pensano che tu sia un sobbillatore, cioè io sono un sobbillatore, che deve farsi vedere molto e particolarmente attivo e da guerrito contro i cattolici, parentesi, strano ti abbia mai denunciato, eppure molte tue affermazioni sono al limite della denuncia, a torto magari, ovvero potresti anche vincere tu poi, ma se già una personalità come la fallace è stata denunciata, appare improbabile che tu sia così intoccabile senza qualcosa o qualcuno che abbia intenzione e voglia di proteggerti, eventualmente a tua insaputa. Fate un po' voi, vado avanti. In qualche modo qualcuno ti ha costretto a farlo o ti ha manovrato. Lo scopo finale è quello di gettare fango sui movimenti pagani in generale. Il tuo passato è risaputo e questo non dà un'immagine bella del paganesimo. Cioè, se c'è qualche infiltrato monoteista che possa destabilizzare, dividere e far apparire brutto il mondo pagano e vicca, questo sei tu. Dopodiché, continua. Quanto sopra, ripeto, non è il mio pensiero, ne ho intenzione di commentare. Non arrabbiarti con me, no, ma che. Per questo, ripeto, relata, refero, ok? L'unica cosa di cui sono ragionevolmente sicuro, dice sto personaggio, è che le forze dell'ordine ti tengono sotto controllo. E' questa. Andiamo avanti ancora. Anzi, posso farlo un siso. Io posso dire, nelle nostre esperienze, che le nostre attività, se abbiamo avuto un sostegno, le abbiamo avuto dalle forze dell'ordine. Da carabinieri e la polizia. Soprattutto i carabinieri. Cioè, che hanno avuto quell'atteggiamento corretto. Sì, cioè, che non ci ha fatto favori. Hanno fatto il compito. Il loro lavoro. Il loro lavoro. Beh, facendo il loro lavoro è già tanto, li va riconosciuto perché tantissimi non lo fanno, a cominciare da tanti sindaci. Andiamo avanti ancora. E sicuramente hanno anche il mio nome, assieme agli altri che hanno scritto qui, nei loro schedari, assieme ad altre cosette che mi riguardano. Questo qua c'è un po' l'idea della polizia italiana, come se fosse anche Stapo nazista, più o meno, o la polizia staliniana, insomma, siamo a dei livelli del genere. La privacy non esiste più. Soprattutto quando si agisce ai bordi della società. Oh, io non ho mai detto di agire ai bordi della società, giuro. Sia perché si è ai bordi della legalità. Noi siamo ai bordi della legalità. Siamo alla legalità fatta a persona. Se noi fossimo ai bordi non verremmo certi in radio a parlare da dieci anni. appunto. Non mi riferisco qui a nessuno, sia quando si fa parte di qualche gruppo minoritario, strano e poco conosciuto, ragazzo. Da un lato ci tengo a farmi conoscere, far vedere tutto quello che faccio, e da altre cose sono un gruppo strano e sconosciuto. E qua ci siamo dentro tutti come pagani, vicca, strega e quant'altro. Al tempo, ognuno parli per sé. Noi parliamo per noi come federazione pagana. Poi gli altri si arrangiano per le cose loro. La mia non è una condanna delle forze dell'ordine, anche se in un paese democratico essere controllati in questo modo fa un po' incazzare. È una banale constatazione. Però puoi immaginare che avere un dubbio, anche pur minimo, significa agire con prudenza quando si parla con te. Se vuoi rispondi, se non rispondi non importa. Quello che pensi di me è una tua sensazione e quindi è assolutamente lecita. Non ho intenzione di far penetrare il mio cerchio ora da simili questioni. Il mio percorso lo sto portando avanti con altri e anche le mie future attività ti faranno cambiare idea. O beh, magari in peggio. Ma ancora si tratta delle tue sensazioni, del tuo cerchio, per cui non devi assolutamente preoccuparti dell'effetto che hanno su di me che è nullo. Questa è un'email, naturalmente mandata in gruppo, che ha uno scopo ben preciso, quello di terrorizzare, diffamare, far paura, impedire alle persone di discutere, di dialogare. Siamo ad un livello talmente becero, ma talmente è squallido. Che uno si chiede, ma a questi chi glielo fa fare? Vabbè, io e Francesco abbiamo delle passioni, dobbiamo sviluppare il paganesimo, ma a questi chi glielo fa fare? Di fatti? Cioè, a un certo punto. Proviamo a chiedersi questa roba. No, sai, quello che questo personaggio a me mi ha incuriosito e mi è stato molto perplesso è che due anni fa ha comprato il dominio paganesimo.it. La legge italiana dice che se entro sei mesi non lo riempie di contenuti, significati di testi, il dominio non è più tuo. E due anni è fermo. Aspetta un attimo, quel dialogo che ho avuto con lui, che farò dopo le ore 19, allora io lo feci perché lui aveva l'idea di metterlo in paganesimo.it. Però siccome chiaramente le idee che abbiamo non sono molto commerciali, cioè nel senso che sono idee della vita, cioè appartengono alla costruzione religiosa delle persone in relazioni col mondo, non è facile usarle per comprare e vendere, non è assolutamente facile. Credo che non ne abbia più fatto niente. No, a me è risultato, io non l'ho visto per due mesi fa, forse un mese fa, perché è appunto da due anni, che prima era di una persona che conoscevamo, l'ha abbandonato, stato comprato da un sito che occupa siti commerciali, l'ha rivenduto e lui l'ha comprato e in due anni non ha messo assolutamente niente. Poi qualcuno andrà a capire perché insomma. A questo personaggio ho dato questa risposta. Sono contento che finalmente tu mi abbia detto esattamente cosa nascondi. I cosiddetti vicasseri di cui parli sono il frutto della tua fantasia. Tu immagini una vicca come dottrina che affermi ma non manifesti. Immagini dei vicasseri, come possono esistere dei vicasseri se non esiste una dottrina vicca? È un mistero. Che sparano giudizi che nascondono dalla tua fantasia. Ti nascondi dietro a un mare, infatti aveva tentato anche di rinvangare quello che è stato lo scontro con questo personaggio, ma sei tu in discussione, sei tu che fai quelle affermazioni, sei tu che spargi in giro quelle voci perché sei tu che hai convenienza a farlo. Perché non mi hanno denunciato? Perché sono una persona onesta e corretta, cosa che non si può dire delle tue affermazioni. Perché sono una persona pubblica con un sentimento religioso, cosa che non si può dire dei tuoi posti. E il mio passato non c'entra. Nessuno ha il diritto di fare del male alle persone sui posti di lavoro. Il mio passato c'entra solo per persone come te che vanno offendendo e denigrando gratuitamente. Metto in mostra tutto quello che faccio? Certo. Affinché persone come te non continuino a diffamare inventandosi cose che si articolano solo nella loro testa. Perché chi si nasconde dietro segreti, anche quando si tratta solamente di questioni di debolezza o opportunità, trova persone come te che denigrano e diffamano. La differenza fra me è la fallace e che mentre la fallace è razzista ed offende il sentimento delle persone, io manifesto il pensiero del paganesimo politeista. Quello che tu vai farneticando sia illegale per i tuoi interessi. Il mondo pagano esiste perché io l'ho costruito dandogli corpo, sostanza e idealità. Altrimenti sareste ancora fermi ad Evola e agli studi accademici che nulla hanno di religioso. E qua, se mi permettete, mi sbrodolo io addosso. Qualche volta, no? Il mondo pagano esiste perché è stato potente il modo con cui ho soffiato vita nel cuore degli dèi affinché si esprimessero fra gli esseri umani. E non raccontarmi palle, sei tu che vai farneticando, fermando in giro quanto vuoi attribuire ad altri. Esattamente come vai farneticando complotti di vario genere. Complotti, se ci sono, sono quelli che tu stai spargendo in giro. Ti ringrazio, Pier Maria, per avermi detto che cosa fai in questa lista e per avermi dimostrato di quanta merda sono portatori coloro che si dichiarano vicca. E qua Francesco naturalmente non è d'accordo perché la mia posizione non è personale. Ora capisco perché non hai mai postato nulla di religioso, tu non hai nulla da postare. Ora capisco perché intervenivi a sproposito su ogni nuovo intervento. Pier Maria, io torno da una trasmissione pubblica radiofonica da dove per quasi nove anni manifesto il pensiero religioso. Tu sei solo un topo di fogna che si inventa squadre di polizia e si inventa dei vicca seri a cui metti in bocca le stronzate che hai nella tua testa. E questa è la lettera di risposta che gli ho fatto. E nel sito, nella pagina c'è scritto anche che è inutile continuare a spargere voci e fare finta di aver paura di una polizia, come se la polizia fosse manovrata da qualcuno o come se la polizia fosse una gestapo nazista oppure una polizia stalignana. E comunque dopo concludo, fate attenzione, quando il pensiero è debole, occultato e non esiste uno sforzo per definirlo, c'è sempre un inganno che viene nascosto e in fondo anche questo è internet. Se le persone vogliono cercare la conoscenza devono innanzitutto imparare a distinguere forma da sostanza ciò che inganno distinguendo da ciò che arricchisce. In fondo è sempre stato così, per tutti i cacciatori di conoscenza, solo che oggi con internet si presenta un nuovo strumento che necessita di nuove modalità d'approccio. Anche questa è una sfida che un pagano politeista e chi pratica stragonaria deve imparare ad affrontare e risolvere. Troverete sempre diffamatori e denigratori sulla vostra strada, però costoro non vi obbligano a comprare la merce. Se loro riescono ad ingannarvi è solo perché voi avete voluto essere ingannati. E questo conclude la pagina. Naturalmente su alcune affermazioni Francesco non è d'accordo, cioè non metto assolutamente in discussione, infatti la mia posizione sulla Vica è estremamente più radicale di quella di Francesco. Ma Francesco è un buono, insomma, per cui non posso più di tanto discutere. Francesco, questo è quanto? Praticamente abbiamo dei personaggi che ci dicono fogna. No, ma sai, vedi, c'è sempre un discorso, un approccio che è individuale, esistenziale, che è metodologico, che ti fa vedere la distanza umana. Sai, un uomo politico ha usato la distanza, diciamo, bisogna essere socialmente, antropologicamente diversi, in un altro campo. E lo voglio usare anch'io perché l'antropologia è lo studio della cultura dell'uomo. Di conseguenza l'uomo che ha cultura sicuramente cerca di conoscere, di comprendere le cose. Non si crea la paura delle cose e quando comprende una cosa non ha problemi nell'utilizzarla. Soprattutto una cosa fondamentale è che se uno vuole agire alla forza o alla convinzione, agisce in qualsiasi caso, realizza, perché non lo fa per avere un consenso o per avere un mercato o per avere una decisione o per non avere iglesia, lo fa perché esiste una fedeltà a se stessi, a cui che lui rispetta, che lui condivide e che agisce. Il guerriero non combatte certo per avere un battaglione o un regimento, ma combatte perché è un animo del guerriero. Ercole non combatte certo per avere il monumento al milite ignoto o all'eroe di turno, ma combatte perché il suo animo è eroico. Chi dice che gli altri li sono di ostacolo è in realtà perché non ha energia, perché non ha capacità, perché di fronte agli ostacoli noi sappiamo che, come dice Ilman, un terribile amore per la guerra, lega Marte e Afrodite, amore e la violenza e soltanto il paganesimo riesce a coniugarle, a mantenerle assieme e a comprendere che le rappresentano le facce della realtà. Il dire che io non posso fare una cosa perché ci sei tu che dici qualcos'altro denota chiaramente una volontà di imposizione, una volontà monoteistica di affermazione assoluta. attribuisce all'altro il peccatore e questo peccatore deve essere salvato. Perciò non serve che uno si dichiari vico o si dichiari pagano, in realtà uno che è un animo del genere è cristiano, perché dice chiaramente soltanto la mia visione è la visione unica, io vi parlo di verità e io vi dico che esiste un qualcosa. Quando questo è qualcosa in nessuna maniera viene esplicitato, raccontato, spiegato o enunciato, ma viene soltanto affermato, soltanto per titoli. E questo, a di là che uno si dichiari vicca, pagano o poeteista, è chiaramente una dimostrazione del fallimento esistenziale del monoteismo ed è le pratiche del monoteismo ripetute con un altro nome. Ma il paganesimo non è questo, il paganesimo è ben altro. Tutto il paganesimo dice se una cosa a me piace io porto per la conquista, riperchererò quella battaglia, farò quella battaglia mille, diecentomila volte, ma la farò non tanto perché ho bisogno di una vittoria, di una conquista o di un'affermazione o di un riconoscimento, la faccio perché scelgo di combattere. Perché nel mio animo comprendo che è giunto il momento di combattere e al di là che io vinca, che venga sconfitto, fatto prigioniero o che muoio in questa battaglia, la mia volontà e il mio animo dice che devo farlo. Di conseguenza chi si oppone a me, sapendo che facendo una scelta di manifestazione, so che avrò delle opposizioni, ma sono ben contento di combattere per questo. Certo, un eroe non va a uccidere un inerme, anzi è ben contento di avere un nemico potente, forte, capace, non va a uccidere gli innocenti, non va a uccidere gli indifesi, ma si cerca un nemico che abbia le potenzialità analoghe. E allora se noi siamo nel campo delle idee, in cui non c'è la morte delle persone, in cui non c'è l'annientamento delle persone, in cui non c'è la distruzione, ma c'è la manifestazione, io sono ben contento che ogni idea emerga, che venga fuori. Di conseguenza, se qualcuno ha un'idea che combatte nel mio campo, l'alternativa qual è? Non è quella di domandare di chiudere la bocca o di non esprimela, ma cercherò di avere più cultura, più capacità, più abilità, più informazioni, più elementi da mettere dentro, in maniera tale da dimostrare che quello che io ho compreso di quella realtà, di quella possibilità, è la migliore, è la più forte, è la più abile, la più astuta o la più bella. E questo qua logicamente nel campo delle idee si può combattere anche per la distruzione totale, per lo scontro totale. Non esiste un politicamente corretto, esiste la violenza delle idee. Il rispetto, l'abbiamo detto sempre, va alle persone, ma non a certe idee. Di conseguenza io non mi preoccupo quando uno si dice pagano. Va bene, mi dici che sei pagano, che sei pagano, che sei vicca, che sei politeista, mi enunci quello che tu hai nel tuo animo, nelle tue intenzioni. Certo che se vuoi fare mercato non posso dire fallo, ma se vuoi farlo mi devi sconfiggere. Però siccome io non ho mercato, non ho un'azienda che tu mi fai chiudere. Ho delle idee e le mie idee se sono ancorate, se sono legate all'animo, alla vita, se sono legate alla realtà del mondo, difficilmente me le distruggi. Di conseguenza le persone devono chiedere che tu rinuncia a quello che sei, ma chiedere di rinunciare alle persone a quello che sono, a quello che sentono, rientriamo nel campo del monoteismo. Il monoteismo dice rinunciate alla vostra essenza, alla vostra natura, al vostro animo, a quello che desiderate, a quello che volete, a quello che amate, perché? Perché avrete il regno dei cieli. Benissimo, noi non combattiamo per il regno dei cieli, noi combattiamo per la nostra affermazione, per la nostra vittoria, per la nostra manifestazione. E noi non abbiamo bisogno di giudici, noi abbiamo bisogno di provare, di camminare, d'altronde noi uomini abbiamo delle caratteristiche ben precise, che è quello di osservare le cose, di sentirle, di percepirle, di toccarle. Di conseguenza queste idee a noi ci suonano male e non possiamo dire va bene, suoni bene, devi cambiare musica. E siccome appunto chi non è affine, chi non ha sensibilità verso il mondo, verso la realtà, verso le persone, si troverà sempre nella condizione, nell'abitudine, nel metro, di essere insinuatore verso gli altri. Ed è qua e c'è la distanza tra paganesimo e monoteismo. Francesco, è arrivato un fax, il quale è firmato da tale Mario e dice, caro Claudio e Francesco, a volte non condivido le vostre idee, ma sono solidale con Claudio e sottoscrivo anche se solo virtualmente la sua risposta alle cattiverie di certe persone. Vi invio un breve scritto del Machiavelli, circa la Chiesa. Ciao Mario. Niente, ha mandato praticamente un pezzetto del Machiavelli a proposito delle riforme e ordini mendicanti, in cui praticamente, secondo il Machiavelli, la Chiesa deve la propria sopravvivenza agli ordini fondati da San Francesco e San Domenico, ma il meraviglioso esempio dato da tali ordini e li sostiene è servito da alibi ai preti e questi fanno il peggio che possono perché non temono la punizione divina e perché i fedeli sono stati educati a non condannarli per le loro malefatte. E così va avanti tutto lo scritto. Mi ha fatto un riquadro sul quale, vabbè, sia gli stati che le regioni possono avere lunga vita solo se di tanto in tanto vengono riformati da vari personaggi fra i quali lui cita e Machiavelli citava i dominicani e i francescani. Infatti noi adesso leggendo, non con gli occhi del Machiavelli, ma leggendo con gli occhi moderni sappiamo esattamente cosa hanno fatto questi francescani questi dominicani. Comunque sta di fatto che il monoterismo sta attraversando una fase di distruzione completa e purtroppo i suoi cadaveri stanno un po' infettando quello che è la società civile. E ne abbiamo un esempio di internet perché al di là di quello che è la diffamazione sistematica che hanno fatto nei nostri confronti, che hanno effettivamente saccheggiato un po', hanno distrutto praticamente tutti gli ENG, cioè tutto quello che è la storia di internet, cioè tutti i gruppi di discussione che sono nati un po' per internet, che hanno un po' l'equivalenza se vogliamo delle radio libere degli anni 70, i primi ENG avevano questa funzione, hanno proprio la funzione di far circolare le idee, sono riusciti a saccheggiarli con l'immondizia, cioè decine di persone organizzate dai cattolici, organizzate da Gentaglia come vuoi dire, le loro associazioni, sono andati dentro cercando di distruggere, di svilire, di offendere, di mandare in vacca, di vilipendere continuamente qualunque persona tentasse di mettere dei post che fossero, cioè di mettere delle idee o di iniziare di discussioni che avessero un minimo di valore culturale, un minimo di valore sociale, cioè decine di persone, naturalmente non per nome e cognome ma nascoste dietro caselle di posta, sono andati a saccheggiare tutto quello che era la discussione in internet, tant'è che ormai tutte le accademie, tutti i personaggi minimo culturali si sono fatti il loro circuito chiuso, circuito chiuso dove per accedere deve dare tutti i dati possibili e immaginabili e se non rispondi, non rispetti l'etichetta viene preso il cacciato fuori insomma, per cui tutto quello che era libertà di internet o almeno in questi ENG è stata saccheggiata, è stata volutamente saccheggiata. Sì sì, ma infatti guarda, sull'argomento io ho visto, il fatto prima di tutto, già una manifestazione classica sono le persone che si nascondono, cioè nel senso che non escono con nome e cognome, che non sono persone reali, in una parte sono sempre cristiani, cattolici, con nomi più strani. Io ho visto ad esempio un messaggio recentemente su una lista di Chiara Vicca, anche se è una lista molto chiacchierata, in cui si parlava di magia e interviene un anonimo, come sempre, ed esalta la magia di Padre Pio. Padre Pio, penso che i regolatori di questa trasmissione sappiano che è stato sempre un ingannatore, un falso, un bugiardo. Esiste un libro della caos che è beato impostore, tramudato in santo impostore, giustamente è logico che... ed è bene che la Chiesa Cattolica abbia questi santi, tutti i santi sono così da tornare, sono degli impostori, degli ingannatori. Però appunto, vedete, si sfrutta a qualsiasi occasione per rendere possibile un'unica cosa del discorso, che è quello del monoteista. Una cosa che ad esempio mi ha dato da pensare, io ho avuto, ogni tanto noi e Claudio entriamo in un polemma con le persone che parlano di neopaganesimo.